Previsioni meteo in Sicilia martedì 30 luglio. La giornata sarà all'insegna di un tempo ampiamente stabile con cielo poco nuvoloso dal mattino e fino sera. Temperature massime fino a 39 gradi, valori notturni tropicali, oltre i 22-23 gradi. Clima affoso. Messina mare poco mosso, Agrigento mare calmo, Catania mare da calmo a poco mosso, Ragusa mare calmo, Siracusa mare poco mosso, Trapani mare da poco mosso a mosso, Palermo mare da poco mosso a mosso, Caltanissetta mare da poco mosso a mosso